Non ce posso credere, torniamo alla vittoria ragazzi Allora, se voi vedete, vi do questo compito In questo momento mettete pausa Aprite un'altra scheda a destra con il mio canale E mettete recensioni partite, quelle della Roma Praticamente vedrete che è Sfogo, 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 sfogo Poi abbiamo vinto, no, poi sfogo, sfogo Abbiamo vinto 1-0 col Cagliari, uguale sfogo perché abbiamo fatto schifo Poi un altro sfogo, poi abbiamo perso 2-0 con l'Atletico Madrid E lì non mi sono sfogato perché ci poteva stare Raga, non vinciamo da una vita Non vinciamo appunto da Roma-Cagliari Quando l'ultima volta Gladiatore Gianloro su 94 è venuto a Roma Sono troppo contento veramente perché è una vittoria d'oro Diciamo la verità ragazzi Io penso che non ci sia nulla Nulla per dire il contrario Cioè la Roma oggi avrebbe tranquillamente periodo di vincere anche 0-3, 0-4 Cioè per me ha dominato il largo e il lungo Lella Sverona Purtroppo abbiamo questo problema che noi concretizziamo Veramente meno del Benevento Cioè ragazzi noi non riusciamo a segnare Non riusciamo a buttarla dentro Oggi purtroppo Al di là dell'espulsione di Pellegrini Per me il peggioro in campo è stato Eddingeco Io ragazzi non riesco a capire perché questo ragazzo Quest'uomo come volete chiamarlo Non riesce a buttare dentro il pallone Cioè capita spesso che lui arrivi davanti la porta E Tiri, tiri, tiri Senza mai riuscire appunto a prendere la porta Vittoria che fra le altre cose è importantissima Perché ci consente di andare a meno uno dall'Inter E quindi sperare Fra l'altro settimana prossima ci sarà Roma-Benevento Quindi dobbiamo assolutamente Non pensare a nulla e cercare di trovare la vittoria Per quanto riguarda la partita che vedevo di Pellegrini Ragazzi a me, forse il rosso Mi è sembrato un po' troppo esagerato Ora C'è po' anche Stasi Poi pensi che è intervenuto da dietro Prendendo solo il Prendendo solo il piede Cioè non c'era nemmeno l'intenzionalità Di provare a prendere la palla Quindi ok magari non è che dico Con blotto, vergogna Si può anche da Però forse è stato un pochino troppo cattivo Visto che anche dopo Ho stati anche falli forse più cattivi In cui l'arbitro nemmeno ha dato il giallo A cominciare a fare No, no, no Purtroppo mi ruote un po' il culo Di vedere Pellegrini Che fa sti falli un po' de merda Io amo Pellegrini Grandissimo giocatore Però devi capire anche che Quando sei in un momento di difficoltà Generale Perché non parlo della partita insieme Ma del momento della Roma E sei avanti 1-0 In una partita che Ti permetterebbe appunto Di tornare alla vittoria Qualora vincessi Tu non puoi permettere Di fare un fallo Che te lasciare in 10 Ora magari non se l'aspettava Di prendere direttamente il rosso Però ci ha lasciato in 10 Per un tempo intero Quindi sinceramente Non mi è piaciuta questa cosa A me è piaciuto invece Gregoire De Frelle ragazzi De Frelle che finalmente Finalmente Allora io di Francesco Ti avevo biasimato settimana scorsa E finalmente sono contento Perché 1 Hai avuto le palle Di cambiare sto cazzo di modulo Se la Roma fa 84 punti Col 4-2-3-1 Ma come ti può solamente Saltare in mente Di mettere un 4-3-3 Che ci può stare all'inizio E continuare a metterlo Anche quando non funziona Non funziona Prendi il 4-3-3 Lo cestini Dici Scusate regà Ho fatto una cazzata E metti il nuovo modulo Per me Oggi l'ha fatto Io oggi abbiamo visto una Roma Che Dappertutto secondo me Ha dominato Sia in difesa Sia centrocampi Sia in attacco Facciamo qualche cazzata ancora Però insomma Era pur sempre Nella Sverona Ma questa partita andava vinta Cosa stava a dire? L'altra cosa ragazzi È che finalmente Si può Togliere Ed in geco Abbiamo dimostrato Che si può togliere ed in geco È entrato De Frella Ha fatto un'azione della Madonna Ha preso una palla Impossibile da prendere Ha superato un giocatore Lo ha ripreso in velocità Lo ha superato È stato chiuso tra due Ha dato una palla perfetta A Strottman Che ha sprecato tutto Sprechiamo un po' troppo Oggi il Verona ragazzi L'ho visto veramente Molto molto in difficoltà Cioè penso di aver visto Due squadre in difficoltà In questo campionato In difficoltà parlo Proprio delle squadre Che mi sembra proprio Non abbiano una chiara idea Di cosa stiano facendo qui Verona e Benevento Cioè anche il Benevento Dell'andata ragazzi Si sono fatti tre autogol Tipo Cioè no forse due Ma è una cosa atroce Cioè vincere 0 a 4 A Benevento In casa loro Con due autogol E due gol di Geco Fra le altre cose Geco ancora segnava tanto No io credo in Geco ovviamente Però quando c'è da bacchettare L'ho bacchetto So contento So contento Statera Cioè oggi pomeriggio Statera ci godiamo le altre partite Vediamo un po' quello che succede Fatemi sapere come sempre Con un commento qui sotto Che cosa ne pensate Mi piace se vi è piaciuto Dislike se vi ha fatto cagare Vuocela dall'alene come sempre Ci vediamo ad un prossimo video E forza Roma Dai